Noi come Libera abbiamo riportato i temi della nostra piattaforma L10 Piemonte all'attenzione del Consiglio regionale e abbiamo anche espresso quali sono in questi momenti le nostre preoccupazioni collegate in particolare al tema della corruzione e al tema dell'andrangheta sul nostro territorio. Ad un anno dalla presentazione alla politica L10 Piemonte torna a Palazzo Lascaris. L'azione di proposta avanzata da Libera alle scorse elezioni, proseguita nei mesi monitorando l'attività del Governo regionale e tornata in Consiglio per fare il punto della situazione. L'impegno dell'Associazione deve essere sostenuto dalle istituzioni, noi come Consiglio regionale abbiamo assolutamente in modo convinto già impostato questa collaborazione ormai da tempo. È stata Maria Iosefava, referente di Libera Piemonte, a ricordare i contenuti della piattaforma, mai come oggi attuali. Per Libera infatti nei dieci punti proposti ci sono molti nodi irrisolti, questioni che se affrontate potrebbero fronteggiare la capacità delle mafie di insinuarsi in pezzi delle istituzioni, nell'imprenditoria e nella nostra società. La carta etica ha avuto un certo successo perché è stata sottoscritta dall'intera giunta da 51 consiglieri su 60 che formano il Consiglio ed è un primo passo anche per arrivare a cogliere alcuni degli obiettivi che a piattaforma le 10 si pone. Non sono mancate le reazioni da parte dei consiglieri regionali che hanno risposto nel merito delle proposte avanzate. Ai punti contenuti nel manifesto targato Libera ci sono state posizioni diverse ma tutti i consiglieri regionali hanno espresso la necessità di strutturare una collaborazione più solida tra istituzioni e società civile per dotarsi di strumenti utili ad arginare la pervasività delle mafie e del fenomeno della corruzione nella nostra società. C'è stato detto che il decreto di legge regionale che parlava appunto di tutela dei cittadini stranieri, di percorsi per i cittadini stranieri non ha avuto un proseguimento all'interno del percorso di questo primo anno della legislazione ed è stato messo da parte. Su questo noi continueremo a fare delle richieste però è importante anche rappresentare il fatto che su questo punto dell'immigrazione in questo momento la regione si è fermata.